La visione ed il nostro obiettivo da Remembering Your Soul Purpose di Karen Bishop Immagina di essere molto ben consapevole di chi sei Tu sei l'insieme dei tuoi speciali doni, abilità e talenti Tu naturalmente li manifesti e tutto questo avviene senza alcuno sforzo da parte tua Tu ami chi sei e semplicemente esisti Le vibrazioni che tu emani sono differenti da quelle di qualsiasi altro essere La tua particolare energia è unica e riflette la perfetta combinazione dei tuoi doni e talenti che risultano nell'essenza che solo tu possiedi Nessuno può esprimere i tuoi doni nel particolare modo in cui li esprimi tu Ti svegli ogni mattina nella piena gioia di essere vivo Non devi aspettare di essere e di fare quello che sei e che devi fare Nutri grande passione e gioia per tutto ciò verso il quale hai scelto di dirigere le tue energie Oltre a quando e a dove intendi realizzare le tue creazioni Le opportunità di espanderti e di creare sono per te illimitate Tu vivi in una comunità dove tutto è in perfetta armonia ed equilibrio La tua comunità ha nel suo punto focale una particolare vibrazione con la quale ti relazioni Ci sono altre comunità sul tuo bellissimo pianeta ed ognuna ha una sua particolare vibrazione e caratteristica Ogni comunità è in risonanza vibratoria con la stessa identità vibrazionale del luogo geografico sulla quale è situata Tu sei in profonda connessione con tutti coloro che vivono nella tua comunità poiché anche essi appartengono alla tua famiglia spirituale Tu ricordi e conosci ognuno molto bene Nutri grande amore, cura ed attenzione per tutti i membri della tua famiglia essendo stati voi tutti insieme fin dall'inizio dei tempi Sei felice di sentirti vicino ad ognuno Sei conosciuto per ciò che sei e per come vibri così che quando la tua comunità necessita di quel particolare adempimento tu sei quello più adatto per occuparsene Ci si aspetta che tu sia prontamente disponibile essendo tu altamente riverito per ciò che sei e la tua vibrazione completa la perfetta armonia ed equilibrio della tua comunità Non necessiti di essere acceso o spento poiché tu sei e vivi continuamente al top utilizzando i tuoi doni, talenti, capacità, compassione, gioia e senza alcuno sforzo Sei sempre in perfetto allineamento con la sorgente universale e nella tua comunità ci sono giardinieri, architetti, inventori, artisti, cuochi, scrittori, musicisti, comunicatori multidimensionali e tanti altri La tua comunità interagisce in perfetta armonia con la natura con gli spiriti elementali, con i pianeti e con l'intera creazione Ogni cosa di cui si necessita è rappresentata, apprezzata e benvenuta Quello di cui non si ha bisogno semplicemente non esiste poiché non ci sarebbe alcuna necessità di crearlo e del resto non potrebbe essere sostenuto attraverso il pensiero e l'esperienza La tua comunità utilizza e fluisce con le energie degli allineamenti planetari essendo essi parte armonica del tutto Ognuno di voi ha una specifica ed individuale vibrazione in assonanza con l'identica vibrazione del tutto Ognuno di voi ed ogni cosa ha un suo perfetto campo di azione e di interesse e tutto fluisce tranquillamente senza intoppi Le tue necessità sono continuamente soddisfatte e inoltre non può esistere un'esperienza in cui è utilizzata la tua energia in una direzione non sostenuta dalla tua personale espressione L'energia della sorgente fluisce senza alcuna resistenza mentre tu sei sempre cosciente di essere te stesso un'estensione della sorgente C'è una regolare comunicazione e scambio di visite con esseri di luce ed entità di altre dimensioni Le conoscenze più elevate sono facilmente accessibili e il conoscere altri mondi è una normale opportunità Tutti sono uniti tendendo al medesimo scopo e direzione senza alcun tipo di resistenza mentre si crea un continuo canale per ricevere l'energia della sorgente Tutti sono una sola cosa Arti ed ogni tipo di espressione creativa sono abbondanti oggetti di ottima qualità artigianale e manufatti riempiono la tua casa e arricchiscono l'ambiente intorno a te Ti senti bene mentre sei attorniato da tutte queste belle cose che ti elevano anche spiritualmente Tutte queste creazioni sono il risultato e il contributo della condivisione e dell'espressione di ogni individuo e compreso L'architettura è magnifica Ci sono ruote ad acqua mulini a vento ed insoliti modi di imbrigliare le sempre abbondanti energie che tutto circondano Tutte le costruzioni sono in perfetta armonia con la natura circostante Non esiste sistema monetario poiché tutto ciò di cui ognuno necessita è fornito dall'espressione dei doni e dei talenti di tutti con gioia e passione Tutto è donato liberamente Per vivere nella tua comunità ti è solo necessario di esserci, di esprimerti e permettere L'essere, ciò che sei al tuo più profondo livello, quello della tua anima L'esprimerti attraverso le tue creazioni e il permettere alle energie della sorgente di fluire tramite te Ti ricordi delle nostre comunità Ti ricordi del nuovo mondo che eravamo venuti a creare, mostrare e guidare Questo modo di vivere e di essere e queste nuove comunità sono il traguardo e l'obiettivo verso cui ci stiamo rapidamente dirigendo Mentre tutti i vecchi modelli, gli obsoleti modi di pensare, percepire ed esprimersi a bassa vibrazione Cominciano a sparire da noi stessi Come conseguenza del processo di ascensione in atto Sia a livello planetario che individuale Noi stiamo rapidamente accelerando ed ascendendo in elevati esseri di luce Che non hanno altra scelta oltre a quella di creare un mondo esteriore perfettamente allineato E combaciante con quello che siamo diventati interiormente Quale sarà il tuo unico contributo nel realizzare ciò che è in perfetta armonia con l'energia della sorgente e te stesso? Brano tratto da Remembering Your Soul Purpose di Karen Bishop tradotto da Giorgio Strazzari Brano tratto da Giorgio Strazzari